One, live. Pino è la numero due, è il ritorno, è come Rocky 2, Rambo 2, non lo so. Tutto è due, è tutto due, che normalmente è meglio partire direttamente dal tre, perché il due a certe volte è minore rispetto al primo, no? Allora tanto vuole dire, facciamo la terza, perché la prima intervista è andata bene, anche se era in movimento, stavolta se diventerò digitale, guardami. Mamma mia, infatti quando ti ho visto ho detto, ma non è Pino, non è possibile insomma, prima eri da mobile e così si vedevano pezzi. Sì, l'analogico, l'alternativo analogico, che dice se mi vuoi sono così, se no ciccia, poi ho capito che se vuoi un'immagine decente, tu sei un maestro in questo, anche se io mi travesto da comunicatore da tanti anni, però devo dire che quando sei sul digitale e sei con questi sociali molto importanti, è giusto che uno dia un'immagine giusta di sé. Purtroppo la faccia, quest'è Marco mio, no? Eh beh, insomma, io pagherei Pino per avere quella faccia lì e quel cappello, ho sempre sognato di avere il cappello bianco così, bello, snocciolante. Se le donne lo trovano mai i raggi. I raggi così, io li sento crescere, cioè, quando cadono fanno rumore, cioè, non so capelli, io dico, nella vita bisogna anche amare le vie di mezzo, no? Per cui non vorrei avercene tanti io e niente ciufoli, una via di mezzo è come nero così freddi, cioè, delle vie di mezzo sane, insomma, che no. Ma che dice questo romano? Ma purtroppo non possiamo andare contro quello che è la natura della vita, è caro Marco. Questo è e questo resta. Ma, Pino, esci con il tuo libro, la vita non film, e la cosa che veramente mi fa invidia è che tu hai fatto l'audiolibro, letto da te, cioè, numero uno, hai fatto l'audiolibro, numero due, letto da te. Devi sapere che io, sul mio ultimo libro, ho promesso che avrei fatto il mio audiolibro, ne ho letto metà in sei mesi, sono stremato, non ce la faccio più. E in più ho letto metà in sei mesi, che agli due minuti non levo, eh, eh, aspetta, no. Io mi avventuro da un po' di anni con la Emmons, non mi vergogno di fare pubblicità, perché la Emmons è stata capostipida in tutto questo, ed è veramente complicato. Noi doppiamo dei film anche nove ore al giorno, e ci stai. Dopo quattro ore che tu stai facendo un audiolibro, tu impazzisci. Sì. Perché le intenzioni, perché il colore, perché leggere non è facile, Marco, è un lavoro, come il doppiatore, non è detto che un grande attore possa diventare un grande doppiatore, viceversa, come un grande allenatore sia stato per forza un grande giocatore. Per cui è una tecnica che poi, dopo un po', però, ecco, l'ultima cosa che ho letto è stata l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello e risvegli, tutte e due di Oliver Sacks. Ah, che raro. Mi sono riconosciuto in parecchie malattie, devo dire, però, dico, poi mi aspettavo che Risvegli fosse un po' più come il film, e invece no, sono tutti racconti di persone di quel periodo, di questa malattia, di questo letargo pazzesco, uno entrava in letargo anche per anni e poi si risvegliava ed era passato un minuto, oppure una tipologia di letargo pazzesca. Ed era difficile, ed è difficile. Il mio ci ho messo tre volte, devo dire, dodici ore a leggerlo, però era il valore aggiunto che dovevamo dare anche al libro, insomma, un attore doppiatore che fa un libro, devo dire, aiutato con due romanzieri d'eccezione, Michele Piccone e Francesco Trento, lasciamelo dire, perché è giusto che sia così. Un libro è diverso da scrivere uno spettacolo, uno sketch, una trasmissione, è proprio un'altra tecnica. Per cui mi sono psicanalizzato per sei mesi e devo dire che mi ha fatto pure bene, ho risparmiato dei soldi, secondo me, da dare a qualcuno, perché ho raccontato tante di quelle cose che ho detto, ma le ho vissute tutte. E le ho raccontate che sono diventate i no che diventavano i sì, perché deve essere anche un libro di formazione, secondo me. Cioè un libro che possa dare anche delle indicazioni, non soltanto io, 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 perché l'ecocentrismo non mi è mai piaciuto tanto. Sì, sono un ecocentrismo, sono un attore, mi piace stare al centro dell'attenzione, però tutto questo è nato perché ho fatto uno spettacolo che era 58 sfumature di pino, che sono diventate 60 sfumature del grigio, per ovvio. E abbiamo visto che quello spettacolo ha avuto un grandissimo successo perché sì, raccontavo della mia vita, dalla mia vita in su e dalla mia vita in giù, però lo raccontavo in una maniera tale che non era autocelebrativo. Cioè quando parlo del doppiaggio, parlo dei film porti, dovevo cominciare 40 anni fa, non ho detto io, Viggo Mortensen, Jamie Foxx, Sacha Baron Cohen, no, no. Quello ci siamo arrivati, ma diciamo che è un racconto minore quello, o come per il centro sperimentale di cinematografia, che ne prendevano 10 in tutta Italia, se non in tutta Europa, e io arrivai 11esimo, idoneo, ma non ammesso. Non ho mai capito la differenza. Io quando ho fatto i tre giorni della visita di leva, mi hanno fatto idoneo, sono partito un anno per special. Come quando uno diceva da ragazzino, sei carino ma non sei il mio tip, diceva, allora... Esatto, esatto, mi vennebbe da ridere, sei troppo amico mio. Idoneo ma non ammesso, però dopo 20 anni che è successo, nel centro sperimentale di cinematografia, ha chiamato Pino Insegno per fare il professore di recitazione e doppiaggio. Per cui sono quelle storie che ritornano, per cui danno anche una speranza per chi legge e dice, ok, si può fare. Io infatti lo dico sulla quarta di copertina, dico, non sono un figlio d'arte, sono un figlio d'artri. Ed è una storia vera, insomma. Ed era vetrinista tuo papà? Papà era vetrinista, sì, tuttora, c'era 90 anni, pensa. Io dico, papà, ma guarda che è una certa, bisogna andare via, eh. Cioè, basta, scherzando, mamma era casalinga, mamma ha pensato bene di andarsene in una maniera abbastanza pittoresca, nel senso che mi ha segnato molto, perché era incinta la mia prima moglie, nasce, muore mamma il giorno prima, io debutto a teatro la sera, il giorno dopo nasce mio figlio, il giorno dopo debutto su compagni di scuola e il giorno dopo c'è il funerale di mamma. Sono stati tre, quattro giorni in cui non ho capito niente, non mi sono goduto la nascita di mio figlio, non mi sono goduto, tra virgolette, l'andata via di mia madre, non ci ho capito niente, sono preso un po' a schiaffi, ma devo dire che nella vita nessuno è esente da tutto questo, anche se la gente pensa che una persona è famosa o ha mille lire più in tasca, allora può permettersi... Sì, come dico sempre, puoi scegliere la tua forma di tristezza, se c'hai cento lire in più, però la tristezza non va via così, insomma, quel periodo è stato come se mi fossi messo lo smoking, ma non c'era più la festa da quel punto di vista. Dimmi una cosa, Pino, scusa, torno all'audiolibro e poi ho mille curiosità da chiederti invece rispetto a miliardi di persone che hai incontrato e cose che hai fatto. L'audiolibro, per chi magari in ascolto dice, vorrei fare un audiolibro, a parte il consiglio di trovare qualcuno che sa leggere, perché come dici tu, leggere è una roba di una... Io proprio ho detto, non so proprio capire, non so da dove cominciare, pensavo fosse molto più semplice, invece... E poi è fatti così, io dopo mezz'ora non ce la faccio più, non riesco più a... No, ma non sei, non è anomala la tua cosa, dopo mezz'ora veramente anch'io, c'è abbastanza di... anche un reflusso, cioè è normale, perché... Io quando ho letto, non lo leggo prima il libro, quando ho letto il libro della giungla di Kipling, mi sono imbattuto in tutti gli animali del mondo, ma l'ho scoperto strada facendo, a parte che pensavo che fosse come il film, ma non è così, ci sono tante storie nel libro della giungla, unite insieme poi hanno fatto il film, quello della Disney. Ed era difficile dare il senso agli animali, perché tu non puoi dire, papà al lupo disse, vieni da questa parte, il figliolo al lupo disse, perché papà vengo da quella parte, perché da questa parte stai tranquillo, ma io sono tranquillo anche qui. Allora deve essere, il racconto è, papà al lupo a un certo punto guardò in faccia suo figlio, vieni da questa parte, stai meglio. Ma papà, perché devo venire da quella parte? Perché stai meglio, te lo dico io. E fu così che papà al lupo difese suo figlio. Ah, così non vale! Stavo inventando ovviamente, però ecco mi trovavo strada facendo su questo tipo di lettura e ho trovato sempre delle frasi, mi piace molto anche quando faccio il doppiatore, entro sempre in transfert con quelli che doppio, non mi serve starci troppo tempo, sempre con bravi direttori di doppiaggio. Però non perché io sia più bravo o meno bravo, è che proprio mi piace sognare. Cioè, io quando sto lì e divento il signore degli anelli, e divento Django, e divento Borat o chissà chi, è come se quando da bambini uscivi dal cinema e continuavi a fare dopo un West, e bish, 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 ecco è uguale. Per me essere stato Django è stata una settimana bellissima, perché non mi dovevi rompere le palle per strada, insomma, ero Django, cioè, non escivo, capito? Anche se dicevo mi chiamo Pino, P-I-N-O, la P è muta, bifolco. Cioè, ero io. Però con i bambini, non perché io chissà, ed è lì che ho incontrato pure Jamie Foxx, che è stato, devo dire, quando incontri questi grandi, boh, sono direttamente proporzionale alla loro disponibilità. Ma lui, scusami, io non l'ho mai né intervistato né incontrato, ho visto, è uno dei miei attori preferiti, ho visto una marea di interviste, e ogni volta sa recitare, sa cantare, sa ballare, sa... E dici, ma ragazzi, mi smetti, insomma... È odioso, Jamie Foxx è odioso. È proprio un fenomeno così. Ma tutti sono così loro, perché studiano, santo Dio, io adesso ho doppiato una cosa comune. Lui nasce, quando io feci il provino per Ray Charles, il primo film a Jamie Foxx, che sono stati a fare due mesi i provini, sono stati, perché doppiare Ray Charlesx è impossibile, perché tutti sanno come parla Ray Charlesx, però bisognava doppiarlo, per cui bisognava entrare in quella musicalità. Lui era identico a Ray Charlesx, lui ha cantato come Ray Charlesx, lui ha recitato, molto più di Bohemian Rhapsody, del ragazzino che ha vinto l'Oscar, ma molto, molto di più. No, ma era pazzesco, per cui è stato bellissimo seguirlo, perché lì ci abbiamo messo veramente tanto tempo, perché lui recitava, era stonato da quando aveva vent'anni fino ai 35, lui era indeciso, insicuro, per cui questo blinding è quello di parlare... Era tutto così, e non era facile. E poi attaccava a cantare. Anzi, qualcuno per strada mi ha detto, Pino, ma l'hai cantata tu le canzoni? Ho fatto senti, tesoro. Non è che si intitolava Giorgia nella mia mente, si intitolava Giorgia on my mind. E non era... ed è stato un periodo bello, anche se l'ultima frase del film, la ricordo ancora con grande durezza, e dico sempre che un attore non deve essere mai coinvolto, perché l'ultima frase direi, è la moglie che gli dice in Alabama, gli dice vorrei che tua madre fosse qui, e lui gli risponde, lei è qui, non se n'è mai andata. E attacca Giorgia on my mind. Beh, sono stato un'ora senza riuscire a dirla quella frase. Un'ora. Perché avrei voluto che mia madre fosse lì. Ma quando tu incontri uno così, oppure Viggo Mortensen, che è un altro figo pazzesco, che cose dipinge... Prostingue, scultore, pittore. A me sembra come Woody Allen che gli dice sì, ma sei capace a fare... sei capace a fare questo, no, eh? Ma come atteggiamento hanno, come dire, un'umiltà di base o alcuni di questi? No, umiltà. Quelli che ho incontrato io, compreso Robbie Williams, poi sul mio Instagram, qualcosa di queste cose l'ho messo anche quando ho incontrato adesso, ultimamente ho messo quando... Ho trovato un ragazzo, a Sanremo ho incontrato Will Smith, che doppia in Ali. Ecco, guardati quella scena. Oppure Robbie Williams al Costanzo Show, che io ho conosciuto prima del Costanzo, perché sono a stringergli la mano, santo Dio, Robbie Williams, pace all'anima sua. E mi sono presentato, tant'è che Costanzo in quella scena disse, eh, il segno, hai vinto chi c'è Robbie Williams? C'è a te chi te conosce? C'è a te, manco c'è chi sei. Io ho detto, veramente siamo amici, eh, Robbie? E lui mi ha salutato, è l'oppino, e abbiamo cominciato a cazzeggiare. Ed è stata una puntata pazzesca. Questo per dirti, anche Jamie Fox, dicevo prima, dopo Django, l'anteprima italiana all'Adriano, venne vicino a me, perché gli avevano detto che ero stato io a doppiarlo, gli aveva detto Franco Nero, un'altra persona famosa, che lui è stato il primo Django. E lui venne vicino a me e dice, thank you, mister Puino. Mo, se hai sbagliato il nome, Marco. Io gli ho detto, ma tu ti chiami your name is Gemai o Jamie? E gli ha riso, ovviamente. Però è venuto lui, come Vigo Mortens, che c'è un capitolo proprio anche nel libro, dove ci fu questo incontro pazzesco, che sembra una gag, ma fu esattamente... poi te lo racconto, lo racconto anche senza svelare troppo il libro. Ma ci fu, stavo facendo il bagnetto a mio primo figlio, che era Matteo, arriva una telefonata dove non ci sono i nomi o i numeri ancora, dico, pronto, chi parla? Sono Vigo, dico sì, Vigo chi? Vigo Mortens, vieni a mangiare la pizza con noi a Campo dei Fiori? Ho fatto senti, io sono Tom Cruise, non mi rompi i coglioni, ho attaccato, guarda la parolaccia, ma così dissi. Seconda telefonata, sono Vigo, vieni, ho fatto senti, ma non c'è niente da fare, e attacco. Terza chiamata, Enrico Loverso, il mio amico attore, gli ho detto, ma che gli hai detto a Vigo Mortens? Dico, scusami, come Vigo Mortens? Sì, sì, perché siamo a Roma per presentare alla triste il destino di un guerriero al cinema di Roma, e gli ho detto che tu sei la sua voce ufficiale, li dovrebbe conoscere, siamo a Campo dei Fiori, vieni, pieno, vieni. Insomma, stavo già lì, mio figlio è affogato nel frattempo, per essere salvato. Sono arrivato e c'era lui, ma stava con un paio di jeans, due pantofole ai piedi. Cappello lungo o cappello corto? Corto, biondino, cappello corto, slavatino, insomma, non è che lo... Abbiamo fatto amicizia, andiamo usciti fuori a fumare una sigaretta insieme, lui si preparava da solo, davvero artista, io non so, capace. Ma a parte questo, decido, a un certo punto, alla fine della cena, dico, andiamo, faccio mano un giro per Roma, siamo a Campo dei Fiori, insomma. E ci mettiamo, io e Viggo, in testa a questo gruppo di attori del film, eccetera, e un gruppo di ragazzotti mi riconosce, e riconosce me, e comincia a fare, Pino Cegno, Pino Cegno, uno di noi, Pino Cegno, poi prende la macchia di fotografia, a biondino c'è pagato con Pino. A biondino, era Viggo Mortensen, ma non finisce qui. Io gli spiego, ma vicino a questi ragazzi, in effetti ho capito, perché non lo può riconoscere, senza la barba, il capello lungo, la spada, insomma, non era facile. Io mi avvicino e dico, senti un po', cos'è che era la macchina fotografica? Quello lì è il signore degli anelli. E lui mi risponde, a me che cazzo mi frega che fa orefice, io ho la foto con te. A me che fa orefice. Non la puoi scrivere. La dignità della gente riesce a trovare una soluzione del genere. Viggo Mortensen, peraltro, io me lo ricordo, aveva fatto quel film On The Road, mi sembra, con il filo, mamma mia, un'angoscia, mi metteva quel film lì, ma lui era bravissimo. C'è anche On The Road che è tratto dal... Ah, e poi l'altro invece dove è vero? E lui che è l'autista... On The Road era terrificante. Mamma mia. E poi c'era il killer invece, tutto tatuato, della mafia. Il film è stato assassino. Eh, bellissimo. Quello di Cronenberg, bellissimo. E anche lì, per esempio, io cerco sempre di cambiare la voce, perché Viggo del Signore degli Anelli è Restate fermi! Resta... Poi era vent'anni fa, c'era la voce un po' più leggera. Ma il Viggo Mortensen del... The History of Violence, oppure la promessa dell'assassino, lì era russo, per cui era Devi stare attento da un uomo come me. Era più leggero, più cattivo. Non era Borat, perché quello è... Quello è un'altra cosa. Quello è matto. Quello è... Uno dei più faticosi del mondo fare lui, perché... E fa l'arabo, e fa il russo, e fa il tedesco, e fa... Cioè, è una follia. Una follia. Robin Williams invece mi ha fatto venire in mente che ho visto proprio la scorsa settimana su YouTube c'è un video dove lui fa stand-up comedy. E peraltro sono andato sabato sera qua a Brighton, che c'è... E' vero che tu sei a Londra, è vero, è vero, è vero. Sono andato in un posto dove fanno... Ogni sabato ci sono dei comici diversi, così, che girano. Uno peraltro ha fuori, ma proprio fuori come un balcone. E la cosa interessante, e che poi mi aveva ispirato, era andato a vedere questo Robin Williams, un video di Robin Williams, dove lui praticamente scende dal palco, comincia a girare per il pubblico, e inizia a improvvisare con qualunque oggetto trova. Quindi prende il cappello, la sciarpa, e ogni oggetto diventa una roba incredibile. Ma questa è la grandezza di questi signori. È stata la sua arma a doppio taglio, questa grande forza, perché lui passava da questi momenti di grande superanza positiva a momenti di grande superanza, al contrario, negativa. Poi le fasi negative hanno superato quelle positive, si è trovato in una depressione terrificante, e credo che ci abbia salutato così, almeno leggendo dei libri e leggendo le persone lì, sono state vicine fino all'ultimo momento. Certe volte quando sei un piccolo, un picco di energia dell'universo, un po' come è stato Bruce Lee, che per me è un punto di riferimento. Uno dice, ma perché un punto di riferimento tu dovrebbe essere Lorenzo Livia? Sì, ma Bruce Lee. Cioè Bruce Lee è... Che non ho mai ovviamente conosciuto. Io ho fatto l'esame di maturità con la statuetta di Bruce Lee vicino, le ho salutate i professori così, cioè no. E lui quando morì e se ne andò, morì una piccola parte di energia dell'universo, non morì un attore, morì qualcosa di più. Insomma, sono quelle... Non lo so perché esiste pure il club dei 27, dove sei mai chiesto? Perché tutti questi grandi a 27 anni ce ne vanno, e io c'ho 62 anni e sto ancora qui. Non te la fa mai sta domanda. Ormai ho smesso, ho smesso. Questi sono stati dei grandi. Hanno detto tutto in 27 anni. Che poteva fare di più Jim Morrison o Jimi Hendrix? Ah, però poi l'altra sera invece ho visto il documentario di Val Kilmer che ha fatto Jim Morrison. Mi ha messo anche lì una gran tristezza, insomma, a vederlo, come è messo. E tu vedi... Guarda Russell Crowe. Cioè tu vedi il gladiatore, poi vedi adesso, dice ma chi ti sei mangiato? I spade, i cavalli, chi ti sei mangiato? È un peccato quello. Poi vabbè, va a chi, ma c'ha avuto malattie, tanti casei. Però devo dire che è interessante, insomma, vedere questi grandi attori. Hai visto Don't Look Up? Il film con DiCaprio. Bellissimo, bellissimo e devo dire lì merita l'Oscar DiCaprio. Perché fare uno scienziato in quel modo, in quelle condizioni, non puntando sulla sua bellezza, ma anzi giocando ironicamente sulla sua fisicità di bello scienziato, quella è una parte difficile. No, Revenant? Cioè, Revenant ci vuole niente. Stai in 40 gradi sotto zero e fai quello che fa lui, ma io non solo ti do i soldi, ti do l'Oscar, ti do pure i chiavi di casa. Però Revenant è più facile. Questo è stato come Biggo Mortens di Green Book. È più difficile fare un italiano americano in quelle condizioni che fare Freddie Mercury. E non lo dico perché l'ho doppiato io, ovviamente, ma perché è più difficile, come Robbie Williams a risvegli, che fa il medico. È più facile, più difficile fare lui che fare Robert De Niro, il malato con quella malattia particolare. Però, senza nulla togliere i grandi, e questi qui, sì, anche Jim Carrey, c'è un documentario dove è molto depresso anche lui, è entrato molto nella sfera di Man on the Moon, molto simile a quell'attore lì, più che a se stesso. Quello ti fa un po' tristezza, sì. Mi dici una cosa che mi ha incuriosito. Ne approfitto che ci sei. Allora, nel film Don Luca, per un certo punto, Leonardo Di Caprio ha sempre un tono comunicativo molto, diciamo, timido da scienziato, così, tecnico, è così, molto appaccato. E poi c'è una scena, senza spoilerare il film, per chi non avesse visto, dove inizia a urlare, così, e proprio si trasforma completamente. Mi domando sempre, quando senti queste scene dove questi attori urlano, non so definirlo, perché se io mi metto a urlare, non viene così, non so come dire, sembro proprio... Che è un lavoro, Marco, è un lavoro, tecnicamente. L'ultimo film è di Ipico Mortens, Falling, lui grida per cinque minuti col padre, la sua omosessualità, il padre è repubblicano, arrabbiato col figlio perché è gay. C'è un momento terrificante e non solo devi urlare, ma devi urlare con quelle parole, con quei tempi, con quelle labiali, con quella vehemenza e con quella forza. Il doppiaggio è difficile per questo. Ecco, Netflix e Amazon e c'erano hanno sdoganato un po' il doppiaggio, ci ho messo tanti anni di più perché non c'era ancora Netflix e non riuscivo a dire guardate che si doppia in tutto il mondo, addirittura anche in America e in Inghilterra adesso stanno cominciando. Perché è una traduzione, non è cattivo il doppiaggio, è una traduzione, tu, in una commedia, se sei italiano, da reggini in italiano, se stai in Francia, leggi in francese. Insomma, deve essere una buona traduzione, ecco, uno deve stare attento a quello. Per cui gli urli, devi andare con loro. Quella è la cosa difficile, che non solo la recitazione, ma devi guardarlo, devi sentirlo e devi emettere dei suoni che siano molto simili, che stanno bene in faccia. Ed è... sono quelle le cose che fanno la differenza in un film. Insomma, devi ridare un minimo o un massimo di quello che hanno dato loro. Se quello vi sbiglia, io per esempio non ho mai la mezza voce, mia moglie è l'unica che dice, Pino, tu al buio sei chiunque, quando accendo la luce e te tocco sei bianco che sei te, cioè, è una cosa veribile. Perché quando quelli parlano mi fanno, senti, dobbiamo andare. Io invece ci metto sempre, senti, dobbiamo andare, che è molto timbrata. Invece, certe volte, devo fare come fanno certi attori nelle fiction italiane, che non si capisce una parola, se ci fai caso. Non tutti, ovviamente, sono dei colleghi molto bravi. Però hai ragione. O urlano, o urlano, o fanno, ma perché l'altro gioco? È vero, è vero, è vero, è vero. Infatti, a volte, sono dei film che non capisco niente, proprio non riesco. devi sapere, Marco, che io, se ti faccio recitare soffiando, io ti faccio recitare anche a te. E ti faccio fare essere o non essere. Questo mi sa che è improbabile, però ti rilassuro. Perché se tu fai essere o non essere, questo è il problema. Se sia più nobile soffiare. Lo fai. Ma se ti dico di timbrare, le intenzioni, questo per chi si fosse messo in ascolto adesso, io poi ormai rientro un esperto di comunicazione verbale, non verbale, facendo dei corsi, eccetera, ma questa è un'altra pubblicità, faremo un altro collegamento. Sono nelle ultime due lettere. Se io devo dire dobbiamo uscire fuori di qui, no Marco? Lo posso dire normale. Dobbiamo uscire fuori di qui. E si capisce. Dopo dire ridendo. Dobbiamo uscire fuori di qui. Si capisce. Lo devi dire arrabbiato. Dobbiamo uscire fuori di qui. O ironico. Dobbiamo uscire fuori di qui. Cioè, poi, ma è su qui che tu dai l'intenzione. Allora, se certe volte questi ragazzi non studiano, allora ovviamente parlano in un altro modo e dicono dobbiamo uscire fuori. Ti ho detto che è così no. Perché non tieni l'intenzione fino alla fine. L'ho esagerato per far capire alle persone che l'intenzione è sulle ultime lettere. se tu trattieni tu puoi dire quello che ti pare ti ho detto mille volte che ti amo non la tieni e allora la perdi. Tanto vale che ti ho detto mille volte che ti amo. Così almeno te salvi cerchi di far capire oppure soffi. È per questo che è un lavoro bellissimo che va percorso, va studiato, va abbracciato, va coccolato e non è la bella voce. Attenzione Marco, sì, la voce timbrata ti può aiutare per variare i toni e poi abbassarli. Però sono le giuste intenzioni che fanno grande una persona, un comunicatore, un attore, un macellaio, un uomo, una donna, un professore che pure a scuola ha i professori col nodulo dell'insegnante no Marco? Quelli che fanno allora pagina 12 siamo insieme e tu dici non me va non te posso sentire. Ok? È uguale cioè non è che serve una bella voce allora pagina 12 leggiamo i promessi sposi. No, non voglio questo ma almeno uno che sappia veicolare i propri herze della propria vocalità in una maniera giusta è quello che ti porta ma perché le donne sono più brave di noi Marco? Tanto hanno l'emisfero destra e sinistro collegato e questo noi no. Questo noi no. E da un certo punto di vista colgono di più le variazioni della voce gli herze della voce e quando noi guardiamo in faccia la nostra donna e diciamo eh Marco è mio amico si parico vero e quella guarda ma perché ci hanno sempre vanno a pescare ho fatto un esempio ovviamente stupido eh ovviamente perché sei presente ma vanno sempre a pescare qualcosa e a noi ci sfugge ci sfugge sempre non bisogna chiedergli niente alle donne ci arrivano sempre troppo tempo prima no no io non ho fatto la velocina del libro Marco puoi aspettare tre dieci otto secondi sono qua vai vai almeno mi guardo un po' dietro hai qualche nuovo nuova entrata della tua mega collezione di DVD allora se vuoi vedere veramente ecco a me lo facciamo facciamo di poco tanto ecco la vita non è un film a questo attacchio c'hai anche l'audiolibro dentro c'è l'audiolibro c'è qua aspetta c'è l'audiolibro fai il QR code e scarichi l'audiolibro esatto qua lo gratti come gratti e vinci ma ti faccio vedere come sto combinando con i dischi aspetta qui è una stanzetta dove c'è l'ecologico onore ah ok ok non so qui c'è aspetta qui c'è l'altra volta non eri in questa stanza l'altra volta questo è il box anni cinquattro del 1951 funzionante questo ovviamente è il flipper del signor degli anelli funzionante funzionante vabbè qui stanno tutti i video infatti vieni a casa questi qua dentro stanno 15.000 videogiochi me l'ho messo in mio amico ah ok ma ci giochicchi ogni tanto oppure li ti mi prende l'ansia quello Mario Bros precipita io piango questa è l'altra stanza dove ci stavamo l'altra volta ah ok dove stavamo questo è tutto il mio avere quindi distingui hai la sezione cinema e la sezione musica eh sì questa è più cinema da questa parte dall'altra parte più la sezione musica ma insomma è la mia vita non ho orologi costosi ho macchine costose la mia vita sono la musica il cinema questo lo sogniamo da bambino lo sogniamo anche mia madre ma con questo avvento ieri mi è arrivato un messaggio da Amazon Prime che dice ah appena arrivato ultimo film di Jason Statham Man of Wrath o qualcosa del genere eh io grande amante di Jason Statham che tanto fa una parte sola sempre la stessa ma a me piace così ma lui e Liam Neeson sono rimasti gli Ameson è più forte però mi piace di più io vi troverò eccetera Liam Neeson che si incazza ragazzi quello è fantastico però devo dire che mi aspettavo che fosse al cinema invece no quello è uscito su Amazon Don't Look Up è uscito su Netflix Apple TV ho visto delle serie meravigliose ho visto Apple TV è fortissima Ed Lasso che l'ho trovata meravigliosa e poi ho visto anche invece HBO che sta crescendo con Succession che sta facendo insomma hai questi player che ormai hanno come dire a parte che investono 15 miliardi a botta all'anno come è cambiato ecco per te nel senso c'è più necessità c'è più richiesta c'è più contenuto qual è il peso della televisione questo è un problema però perché il fatto che ci sia più richiesta non è una cosa giusta certe volte perché il rischio è che non tutti noi possiamo doppiare tutto e allora il rischio in un momento del genere dove i ragazzi non sono cresciuti all'ombra dei grandi tra virgolette ormai i nuovi vecchi siamo noi io Luca Ward Pannofino Rossi Prando eccetera Tanta gente di questa generazione ma noi abbiamo la fortuna di crescere a Leggio che ne so 40 anni fa dove tu facevi Medico 2 ma uno lo faceva Mendola in altra parte e Cesare Barbetti faceva Robert Efford dall'altra e tu stavi in mezzo o ti capitava di doppiare un film con Sean Connery che c'era Pino Locchi e tu facevi Guardia Giurata 1 dicevi una parola ma vicino a te c'era Pino Locchi che recitava su Sean Connery capito facevi le serie televisive come Sentieri Febbre d'amore Quando si ama General Hospital e vicino c'era questi grandi si doppiava insieme negli ultimi anni a parte il covid si doppia da soli perché poi vogliono fare le colonne separate e missare meglio il film perché se doppi insieme qualcuno va fuori sinca non riesce a mettere la sinca io ho sempre detto come facciamo una volta non si sa allora non si capisce anche perché nell'era digitale è pure più facile e non puoi doppiare con altre persone entri in sala che non puoi entrare in una sala a fianco perché se tu stai doppiando che ne so io stavo doppiando Ray Donovan vicino a me doppiavano la casa di carta io non potevo entrare perché ho paura che uno spoil uno spoiler che per me lo spoiler è sempre stato una macchina senza senza dettuccio poi ho capito che era spider però insomma questo era non ti permettono tutti queste questa osmosi fra i ragazzi questa contaminazione capito per cui il rischio è di avere dei ragazzi un po' meno preparati di quelli che potevamo essere noi una volta non meno bravi perché ci sono tanti bravissimi giovani però non stanno mai a contatto con chi ha fatto questo mestiere o con chi lo sta continuando a fare questo è l'unico problema il covid ci ha messo il carico sopra e allora si sta soli c'è tanta richiesta questo sì il rischio è che si vada troppo di corsa per cui gli adattamenti possono essere un po' più superficiali il doppiaggio un po' più a tirar via non c'è troppo tempo noi doppiavamo il trono de spade che arrivava il lunedì e il venerdì andava in onda wow non era e certo nell'ultima stagione addirittura sono arrivate solo le bocche cioè tutto buio la bocca che fai buio luce in un'altra bocca cioè io quando ho doppiato Lizard adesso nell'ultimo uomo ragno devo scegliere perché ho fatto tutte e tre io i cattivi ho fatto solo l'uomo sabbia però quando ho fatto Lizard che era abbiamo doppiato che aveva elettrodi addosso ancora non era diventato una cavolo di lucertola per cui non è che devi essere bravo di più capire dove andrà a finire con la voce e con la fisicità queste aziende lavorano a parte i tempi lavorano diversamente cioè se c'è Netflix se c'è non so Ozark piuttosto che appunto Apple TV rispetto alla televisione sì sì il film hanno il polso quando noi abbiamo doppiato True Detective Sky non ci ha messo fretta la prima la prima stagione e quando ho doppiato Ray Donovan non ci hanno messo fretta però su certe altre cose ti mettono molta fretta cioè ho fatto la serie su Jamie Fox anche lì non c'era tantissima fretta perché parlava poi spessissimo solo lui questa cosa divertente o su Will Fer delle volte chiedono proprio di fare in fretta e fare in fretta non è mai non sai meglio di me Marco insomma rischi di tirar via le intenzioni e utilizzare il cosiddetto doppiaggese che non va bene insomma cioè quelle cose un po' statiche un po' di maniera ma quello non va bene a proposito viene poi un lavoro un po' a metà a proposito di True Detective prima serie sai che ho intervistato Matthew McConaughey un po' di tempo fa dopo che ci avevamo sentiti noi e lui ma lui sempre dopo di me lui è così così di carattere ma è lui di carattere Marco così hai seguito il segno allora Marco perché io però lui a parte che io lo trovo meraviglioso come attore però ha una parlata molto complicata ecco da capire proprio in inglese anche quando recita io a volte non so cosa dice mi piace uguale perché da però non capisco niente guarda Marco io ti posso dire che anche doppiato in italiano non l'ho capito True Detective ma qui tranquillo io facevo quell'altro facevo lui il pazzo cioè il pazzo lo faceva Matthew McConaughey lo faceva Adriano Giannini io Woody Harrelson lo facevo io per cui lui intanto rispondeva ma che cazzo hai che casa vuoi ti capisco c'è per niente il filosofo era Matthew McConaughey non è vero esatto io stavo tranquillo non dovevo capire una volta invece una figuraccia però su una cosa del genere perché stavo doppiando il film di Cronenberg su Freud Dangerous Method e il direttore di doppiaggio ma mentre dice beh Pino ti racconto un po' la trama di Freud e quello che è successo ma ma guarda non ce n'è bisogno non deve essere l'attore meno sa e meglio è bene il film comincia con una lettera e la voce fuori campo di Freud di Viggo Mortens che dice amico mio la psichiatria è andata avanti caro Young le cose sono cambiate ha fatto Pino quello è Jung è austriaco quello di cui parli tu è Neil Young è un altro non c'entra niente è meglio che io ti racconti la storia non trovi quello è Jung un medico uno psichiatra ecco una leggera differenza è enorme enorme fa Jung e Young ce n'è tanta beh tornando invece sull'Italia e alcuni personaggi che ci sono anche nel nel tuo libro le vita non film ma a proposito eccolo a proposito ma ce l'hai lì a portare come fanno i film dietro che mettono il film grosso dietro è terrificante no no vai vai ma perché dici Massimo Troisi un gigante di tutti quelli che hai incontrato perché Massimo ha dimostrato di essere un uomo gigante un attore straordinario perché insomma non devo essere io a dirlo ma io ho conosciuto l'uomo e l'uomo dietro la maschera non c'era era una maschera lui stesso lui mi chiamò a casa perché io a Pronto Chi Gioca nel 86 dissi signori io sono un attore prestato perché io ho giocato a pallone io gioco a serie C raccontrò anche le mie vicissitudini sull'album delle figurine eccetera per cui dico nazionale calciatori chiamatemi chiamatemi ho utilizzato la televisione e ho detto Pronto Chi Gioca non sapevo che in quella puntata c'era Giociampa mia amica nonché in quel periodo fidanzata con Massimo Troisi per cui a casa quando tornai nel pomeriggio arrivò una telefonata e mamma disse guarda c'è Massimo Troisi al telefono uno che lo imita benissimo e rispose al telefono era Massimo che disse non lo riesco a fare a me fa piacere che lui voleva solo vincere lui giova a pallone già col cuore malandato pace all'anima sua però lui amava il calcio e le donne a tutti i livelli per cui mi convocò agli allenamenti agli allenamenti da nazionale attori e come me Claudio Amendola e Massimo Bonetti che eravamo dei giovani rampanti ma giocavamo veramente bene a pallone non così famosi ma a cavolo giocavamo proprio bene però la nazionale era composta da Francesco Nudi Montesano Verdone Banfi Maurizio Merli c'era tutti sembrava una puntata di però calcisticamente voi eravate più bravi no eravamo un'altra categoria noi eravamo forti ma non giocavamo subito perché entravamo magari al secondo tempo perché non eravamo così famosi e allora nacque questa questa bella collaborazione Massimo Trise a un certo punto però si scocciò inutile che ne parlo perché è una cosa abbastanza delicata in una riunione a casa di Zio Lino Lino Banfi che chiamo Zio Lino perché è una persona è uno di famiglia proprio e disse io vado via vado via da questa nazionale chi vuole venire con me mi segua e io e Massimo Bonetti siamo andati via insomma e fondammo insieme a lui una nazionale calcio artisti per cui erano due allenamenti a settimana e la partita e giocammo anche a Napoli al San Paolo contro l'oro di Napoli che era l'oro e l'oro di Napoli per cui a parte lì a Bagnale eccetera ma c'era Maradona noi giocavamo Maradona in grande spolvero e Massimo Troisi ovviamente che aveva questo ticchettio forse nato nel petto perché aveva questa valvola meccanica che insomma era era dura far finta di non sentirla però lui la viveva così voleva vivere così e così se n'è andato ha scelto proprio lui di salutarci in quel modo ma perché è grande a parte la sua simpatia nel suo modo di raccontarsi di raccontare a riunioni a casa sua a parlare di schemi di calcio e lui diceva ma perché ridete se io parlo perché ti viene da rite come parlava lui ti veniva da rite e ogni volta mi diceva Massimo sto al Parioli mi viene a vedere eh sì ecco me certo vengo non è mai venuto una sera disse Pino siamo quattro vengo io giù c'è le altre due coppia e dico ma Massimo stasera è tutto esaurito vabbè chiamo Costanzo trovo quattro posti per Massimo vado in scena saper si pari ho quattro posti vuoti i suoi a casa sua citofono e faccio Massimo ma non sei venuto eh hai visto non sono venuto non è mai mi viene a prendere ma non era quello ti dico perché è grande faccio un esempio lui stava girando pensavo fosse amore invece non calesse e io stavo in scena con la premiata ditta non potevamo fare tutta la partita non potevo farla né io né Massimo andammo insieme in macchina e Massimo disse facciamo il primo tempo Pino poi tu mi riaccompagni e tu vai dove devi andare dico va bene arriviamo lì Massimo dice che avremmo fatto solo il primo tempo ovviamente su di lui non c'è stato nessun problema su me sono nati i problemi perché nessuno voleva lasciare il suo posto a me ero all'87 88 non mi ricordo adesso insomma nei primi tempi nessuno voleva lasciare Massimo ha visto che ero imbarazzato ma ovviamente dispiaciuto però lo capivo invece Massimo ha detto facciamo una bella cosa noi torniamo a Roma va bene no ma tu Massimo no no io torno con Pino a Roma lui mi ha preso sotto il braccio mettere una zazzeria dice torniamo a Roma e tornò a Roma con me cioè lui non giocò a pallone perché aveva visto in me che c'ero rimasto un po' male chi glielo lo faceva fare fa una cosa del genere ecco questo era Massimo Troesi non con Pino ma Massimo era così con tutti in generale era una persona meravigliosa dice voglio far cinema ma quando me va cioè lui era un napoletano ma il napoletano bello il napoletano classico capito lui lo trattarono malissimo quando ci fu l'anteprima di ricomincio da tre perché gli dissero non si capisce una parola non dovevi far regista le inquadrature sono tutte uguali lui andò a casa mortificato si chiuse dentro casa dopo una settimana il produttore esecutivo suo entrò con una boccia di champagne e gli disse siamo primi in classifica il film per cui come dice qualcuno il successo c'ha tanti padri l'insuccesso è orfano Massimo era così come Pino Daniele poi sono rimasto amico con Pino perché fu Pino che mi chiamò e mi disse Massimo se n'è andato ah sì stavo in tournée mi chiamò sono rimasto scioccato dice stavo a casa della sorella mi è scoppiato il cuore ma scusa Pino Daniele come l'avevi conosciuto invece? così con Massimo erano molto amici Pino e Massimo tantissimo tantissimo e per cui quelle volte che facevamo una partita veniva pure Pino andavamo a pranzo fuori dopo la partita dopo gli allenamenti Pino ci raggiungeva però erano molto uniti loro due insomma Pino era abbastanza inaccessibile è diventato più accessibile molto accessibile soprattutto con me quando morì Massimo perché Pino era uno molto solitario mi piaceva stare per gli affari suoi insomma ero sempre siamo bene così Castel Deceveri poi l'ho convinto a venire a vivere a Piazza Mazzini si sposò con questa persona che fece due figli insomma si aprì e fece non calpestare i fiori nel deserto ma Pino era così Pino era lui la chitarra e non troppa gente passammo un capodanno un capodanno io la mia fidanzata lui la moglie e giovanotti e la moglie anzi era ancora questo è stato il nostro capodanno e abbiamo giocato a nomi cose città frutti e attori famosi con la io ho messo insegno giovanotti ha messo giovanotti ho fatto una quella a Jay questo è stato il massimo di quello che è successo quella sera ho visto altri tre nomi Pino che mi hanno incuriosito nel tuo libro più che altro perché da bambino mi ricordo che i miei genitori dicono ecco vedi tre giganti no Bramieri Gassman e Tognazzi Vittorio Gassman e Tognazzi papà diciamo che Vittorio Gassman e Tognazzi li abbiamo sfiorati nel senso che avendo fatto grazie a Gianmarco Tognazzi il torneo di tennis a casa Tognazzi perché Ugo Tognazzi inventò questo torneo di VIP a casa sua ma la cosa bella era che c'era sì una tribunetta VIP dentro l'interno ma una tribuna da mille posti fatta costruire da Ugo per la gente di Torvajanica per cui se stavi simpatica la gente di Torvajanica tu a tennis vincevi ma se stavi attipatico hai perso perché al tennis c'è il silenzio e loro non facevano il silenzio per cui e la sera si stava sempre insieme di fronte di spaghetti fatti la leggenda narra e noi pure ci crediamo insomma c'era Ugo che preparava da mangiare per 30-40 persone che rimanevano la sera ma la tavola era Gasman Manfredi Tognazzi Gillo Pontecorpo cioè il mondo la Bellucci ha 18 anni a Bellucci Marco Mio cioè tu immagini una cosa bella di più io la incontravo la prima volta dopo una doccia stavo a Cappadoglio capelli dritti ho fatto uscire stasera non se ne parla immagino vero così è una bellezza assoluta per cui erano quelle serate in cui diciamo che sono uno che come vedi non è che gli manca la parola però ascoltavo erano serate magiche bellissime pieni di racconti di goliardia e tutto questo grazie a Gianmarco Tognazzi che siamo tanto amici anche adesso con Gimbo e ho avuto la fortuna di respirarli di lavorare insieme invece con Gino Bramieri perché quando eravamo a Legra Brigata eravamo un gruppo di 11 attori e dentro c'era anche Massimo Popolizzo che è un grandissimo attore del teatro serio italiano Fabio Ferrari mio fratello insomma era una bella compagnia Garinei sentì parlare di noi venne a vedersi Tata Giacobetti del quartetto Cedra e convinse Garinei e Bramieri a venirci a vedere ci videro si divertirono tantissimo a vedere Giulio Cesare e Emanuele di te Shakespeare disse questi sono i nipotini nostri preferiti e ci convocarono al GB Show che era il sabato sera su Rai 1 per cui l'Allegra Brigata prima della premiera ditta fece due barra tre stagioni al GB Show con Bramieri che faceva da papà da mattatore e ti dico la cosa incredibile che gli ospiti erano vivi tutti eppure c'era spazio per dei giovani cioè gli ospiti erano Aldo Fabrizi Sordi Manfredi Tognazzi Deglia Scala Raimondo Vianello Sandra Mondaini c'era chiunque che veniva ospite eppure c'era pure lo spazio per l'Allegra Brigata che faceva un quarto d'ora facciamo le tragedie più comiche della storia mi ricordo la prima stagione e facciamo Piero e Angela c'erano Ciufoli e Silvia Dognoni e facciano Piero e Angela e noi con le teste spingevamo su un tappeto elastico e facciamo la sigla di Quark e ogni puntata raccontavamo ma il fatto che ci fosse spazio per i giovani magari rispetto ad oggi che è una situazione diversa e perché era più sperimentale era qualcosa di più come dire fuori oggi era più professionalità Marco nel senso che i ragazzi che sceglievano di fare questo mestiere sceglievano di fare questo mestiere non per scorciatoie di talent ma facciano questo mestiere perché hanno fatto l'accademia perché avevano studiato perché sapevano quello che volevano fare non volevano arrivare a visione per diventare famosi non c'erano i social non c'era neanche il VHS cioè c'era soltanto la voglia di fare questo mestiere per cui ci arrivavi preparato in qualche modo cioè non è che canti una sola adesso ne so fai il grande fratello che non sai chi è anche se si chiama VIP vinci e dici ok adesso voglio fare l'attore allora tutti quegli arresti domiciliari che dovrebbero dire cioè non si fa così ok non si fa così tu sei un attore qualcuno ci è diventato Argentero ci è riuscito insomma qualcuno ce li può anche riuscire però devi studiare e prima si studiava di più cioè tu venivi da la Silvio D'Amico dal centro sperimentale da un'accademia formativa importante da qualcosa insomma da uno studio non c'era hai vinto un concorso fai l'attore fai il cantante perché io ne parlavo proprio con Mogolle e dissi ma se Lucio Battisti fosse nato adesso e andava con tutto il rispetto di X Factor che è un programma bellissimo girato benissimo tecnicamente nulla da eccepire ma se fosse si fosse presentato avrebbero cacciato via secondo me la prima la prima selezione perché non c'ha voce è calante per cui il rischio è che in questo momento sì c'è sono tante possibilità per tanti ragazzi però la possibilità che cantino una sola estate è lì c'è il canto una volta poi ciao c'è un altro grande fratello c'è un altro per cui ciao 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 in effetti Lucio Battisti anche su tiktok farebbe dieci visualizzazioni secondo me però stiamo parlando di un grande come che Stevens per gli americani secondo me gli avvicino molto che Stevens scrivendo questo questo libro e ripensando a tutte le persone che hai incontrato le esperienze che hai fatto sei riuscito a individuare qualche tratto comune di tutte le persone che hanno che hai conosciuto che hanno ottenuto grandi risultati o che tu reputi che siano persone di successo ma non solamente lavorativo proprio dici ecco un grande una grande e hai visto dei pattern comuni ricorrenti e hai detto ah vedi ecco in genere noto questi aspetti sì mi fa piacere questa domanda perché sì non ci avevo mai pensato però è così e credo che il minimo comune multiple il massimo comune divisore sia sempre stata l'umiltà la disponibilità la voglia di condividere l'empatia di queste persone i più grandi che sono rimasti itali e ci hanno insegnato tanto e noi mi hanno dato tanto sono quelli che si sono resi più tra virgolette disponibili disponibili nel insegnare nel condividere nel farti sentire importante tanto quanto è stato importante come formazione perché mi hanno insegnato che la prima persona che si saluta su un set è l'ultimo degli operai ultimo fra virgolette ovviamente perché lui fa parte della tua avventura e lui grazie anche a lui tu vincerai ed è una cosa che mi ha segnato sempre l'ho visto fare in Gino Bramieri da Walter Chiari da tanti grandi da tantissimi grandi e questa cosa è vero paga io quando facevo reazione a catena ci ha tolto i primi dieci minuti che era un quadrallo soltanto a mezzo busto l'ho fatto senza pantaloni ma perché? per costruire un rapporto con i ragazzi che erano nel pubblico che per 6 euro al giorno guadagnavano niente poco almeno per condividere con loro un divertimento un'empatia un friccichino che a casa arrivava in qualsiasi caso rimanere con loro a raccontargli una storia una barzelletta è stato sempre il mio modo di essere che mi ha molto umanizzato ho tolto quello spessore da personaggio perché chiunque mi incontra per strada e la gente che mi incontra lo sa io mi fermo io ringrazio quando mi dicono ti dispiace se facciamo una foto dico no mi dispiacerà il giorno che non me lo chiederete più addirittura mia moglie mi dice ma guarda me che quella non ti ha chiesto la foto ma c'è la faccia che mavola le chiede per cui sono io che mi appicino che non è per la voglia di essere ma perché capisco l'imbarazzo di quella persona e dico dai vuoi fare una foto facciamola cioè non sono cambiato diciamo che quando ero piccolo ero io che fermavo le persone adesso sono le persone che fermano me ho scritto nel libro racconto pure una cosa imbarazzante che quando sono diventato famoso all'inizio insomma dopo pronto chi gioca che la gente mi fermava insomma non essendo io uno biondo con gli occhi azzurri non è che venivo fermato così tanto allora la sera in macchina cercavo di fermare ma più semafori possibili rossi accendendo la lucetta in macchina fermandomi parallelo alle altre macchine facendo sì sono io cioè è imbarazzante è veramente ridicolo ma l'ho fatto l'ho fatto e sono rimasto così sono rimasto e che non c'è Marco ma sono così è così oltre all'uscita del libro conoscendoti un po' diciamo in remoto però ho sempre la sensazione che c'hai mille cose in balva e mille cose fare solo il libro mi sembra limitante ecco quindi che progetti hai da qua diciamo ai prossimi o per questo 2022 oltre all'uscita della vita ma questa è la novità poi c'è il teatro che continua perché in questi giorni sono anche in turnero e gemili eccetera ecco un bellissimo spettacolo sono scusami Pino non lo so vivendo qua a Brighton sono aperti i teatri normalmente non è così facile è stato facile per 15 giorni facile ho dovuto recuperare le 12.000 presenze che avevo con uno spettacolo con mia moglie uno spettacolo bellissimo e abbiamo recuperato come potevamo ma facendo due tre spettacoli al giorno per cui rimettendoci da un punto di vista fisico e economico perché però dovevamo recuperare dopo di chi adesso andare al teatro è difficile perché devi fare il green pass l'ecocardiogram agoloscopia agoloscopia il green pass il super green pass il mantello la gente non c'ha tutto sto tempo per cui vai al cinema e vai a vederlo Moragno e il resto chi se ne frega così in teatro in teatro andiamo adesso la gente viene perché ci sono io e sanno che non li tradisco però invece aveva 800 persone ce ne hai 500 ok che va bene uguale anche se il teatro è come il delitto non paga per cui continuiamo a farlo ma è sempre dura dovremmo uniformarci un attimo spero che veramente in primavera le cose cambino e che diventi affrontabile da un punto di vista non fregandocene ma insomma ci vacciniamo andiamo la passiamo e via per cui hai teatro e il doggio va avanti adesso ancora un po' poi ho un film in produzione esecutiva con il mio amico Mauro Meconi che è uno degli attori di romanzo che è un regista straordinario per cui ho prodotto esecutivamente questo film bellissimo devo dire cosa fa un produttore esecutivo cerca i soldi crede nei progetti fa quello è un lavorazzo e poi lavoro sempre come strategie aziendali adesso è uscita la terza stagione te lo assicuro dove gestisco con quest'idea delle web series su Facebook tutte le assicurazioni italiane gestite da Ania per cui raccontando in ogni puntata facendo ridere che cosa significa assicurarsi sulla vita su questo o su quell'altro anche per anche per altri brand importanti come Crai eccetera per cui mi muovo molto come strategia ogni tanto faccio dei corsi di formazione alla LUIS dove spiego ai ragazzi quanto è importante saper parlare per cui abbiamo creato col direttore generale che è meravigliosamente bravo non perché mi abbia scelto ma perché Gianni Lo Storto è una persona pazzesca abbiamo costruito un giardino analogico dove le persone devono cominciare a empatizzare con gli altri cioè i social creano freddezza distacco non sanno più presentarsi ragazzi per cui una volta abbiamo fatto addirittura al buio un esercizio bellissimo con dei laureati o delle laureate con 5 amministratori delegati adesso non mi ricordo ma al buio convincilo al buio che sei la persona giusta wow ed è stata un'esperienza bellissima tra te quando sei accesa luce c'era una che non era bella di più e uno che non dirò mai il nome mi ha detto Pino muovo dei tip però che quella era così ho detto no non si può è finito è finito il gioco questo per dirti che che pagano le cose quando studi quando ti prepari è fondamentale saper empatizzare con le persone saper parlare con le persone insomma Marco tu sei un maestro in questo io mi chiamo insegno dico non mi aiuta mi aiuta quello mi aiuta tanto grande Pino è sempre un piacere chiacchierare con te in bocca al lupo per La vita non è un film e ci riagioniamo passa da Brighton dai ogni tanto fai un spettacolo io se faccio guarda termini faccio sempre parioli prati termini Brighton torno a Triè torno sotto faccio il calè e mi torno a casa sempre è una strada che uno fa come fai a non passare a Brighton Marco è un classico si passa ma chiunque ci vediamo la prima anche perché non ci siamo mai conosciuti di persona noi alla prima occasione a Roma in Italia ci dobbiamo beccare dobbiamo incontrarci sempre però a mezzo busto Marco non bisogna mai incontrarci nel metaverso nel metaverso siamo distopici non ragioniamo Marco grazie grazie davvero grazie a voi che siete all'ascolto grazie davvero a tutti ciao Marco ciao Pino ciao ciao